Azioni di Lufthansa impicchiata alla borsa di Francoforte dopo il profit warning lanciato dal vettore tedesco per quest'anno e il prossimo. Secondo i vertici, gli utili si fermeranno rispettivamente ad un miliardo di euro e a due miliardi, in deciso calo rispetto alle vecchie proiezioni. A pesare sui risultati, oltre allo sciopero dei piloti di inizio aprile e gli effetti negativi del cambio, l'offensiva concorrenziale in arrivo dal Medio Oriente. Compagnie aeree come Etihad, oltre a spostare il traffico aereo sui hub della regione del Golfo, stanno cominciando ad invadere l'Europa a suon di investimenti in vettori locali.